Calvano, Assemblea cittadina del PD Modenese, questa sera si fa il punto dello Stato di Salute del Partito Democratico a un anno dalle elezioni regionali. Cosa è stato fatto in questo anno? Cosa si farà in questi prossimi mesi? Siamo a un anno dall'inizio della legislatura, una legislatura che è voluta partire con l'obiettivo di dare segnali di una regione in grande movimento. Devo dire che la giunta guidata da Bonaccini e l'azione del PD sono orientate proprio a dare segnali molto chiari, a partire dal tema della sobrietà fino al tema di una regione che innova su versanti importanti come quello ambientale, quello infrastrutturale e su questo credo che la strada tracciata sia la strada giusta. Adesso bisogna dare continuità a quello che si è fatto in questo primo anno. Altre elezioni ci aspettano in primavera, ci sono le amministrative, nel Modenese votano sei comuni, cosa fare per recuperare anche quella disaffezione che avevamo visto con le elezioni regionali dell'elettorato del PD? Il PD deve essere innanzitutto bravo a rimanere compatto. Quando abbiamo la capacità e la forza di rimanere compatti diventiamo il soggetto da battere dappertutto. Abbiamo la possibilità anche di mettere in campo una classe dirigente sicuramente all'altezza. Serve entrambi, serve compattezza nel partito e classe dirigente e amministratori all'altezza. Sono due elementi che il PD può mettere in campo e sono fiducioso di poter far sì che mettendo insieme queste due cose il PD possa essere competitivo dappertutto, sapendo che non si deve dare per scontato nulla. Coloro che ci guardano, coloro che sono diversi dal PD un po' ci prendono come il soggetto da battere e si sa che in questi casi bisogna stare e avere un'attenzione doppia.